Abbiamo deciso di aderire perché già all'interno della nostra società l'SGS si impegna da sempre a lottare contro le differenze di genere, le discriminazioni di religione, di sesso e quant'altro. Abbiamo presentato il progetto alla popolazione aziendale che è stata molto contenta di partecipare, quindi è stata una decisione comune di tutta l'azienda. Abbiamo iniziato con il questionario sottoposto a tutta la popolazione aziendale, seguito poi da un secondo questionario per chiedere ai nostri dipendenti quale progetto volessero seguire nello specifico. Tutti si sono proprio indirizzati alle differenze di genere, per cui abbiamo fatto sviluppare tre video mini pillole che poi anche i dipendenti magari hanno condiviso con la famiglia e con le persone a loro care.